Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Parliamo in questa edizione della nostra trasmissione del campionato ma anche del mercato perché inizia ad arrivare il momento in cui si strutturano le squadre per il prossimo anno e dunque ne parliamo con Massimo Storgato in collegamento con noi. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera. Ti coinvolgo sulla Juventus per chiederti che cosa pensi delle strategie future per quanto riguarda gli acquisti che dovrebbero andare a rinforzare la squadra del prossimo anno. Si parla molto di giocatori esperti, giocatori già abituati a vincere. È una strategia che secondo te può essere quella giusta, quella di puntare sui giocatori già affermati con un curriculum pesante oppure no? Ma è chiaro che la Juventus quest'anno, dopo quest'annata un po' tribulata, perlomeno iniziata male perché poi la seconda parte della stagione è stata un'annata importante. Ha fatto dei buoni risultati, un filotto che si è rimessa in carreggiata. Purtroppo non ha vinto niente, però ha fatto una discreta stagione. È chiaro che la Juventus quando arrivi secondo è già un fallimento e quindi la Juventus e soprattutto Allegri hanno preso atto e in prospettiva devono fare una stagione dove bisogna vincere assolutamente. E quindi il pensiero è di puntare sui giocatori importanti, esperti che non sentano il peso della maglia. Quindi ecco l'idea di riaprire un ciclo viene messa secondo te momentaneamente da parte? Il ciclo è chiaro che non si può parlare di chiusura, di apertura di un ciclo perché negli ultimi anni la Juventus è stata sempre determinante e ha sempre vinto. E' chiaro che non si può sempre vincere tutti gli anni. Quest'anno sono d'accordo un po' con quello che ha detto Marchesio. La Juventus negli ultimi anni è stata incontrastata e quindi quest'anno ci sta un anno dove non ha vinto niente. Probabilmente sono partiti male e quindi devono fare una riflessione. E' chiaro che ci sono dei giocatori che vanno via e quindi vanno ripiazzati nel migliore dei modi. Che pensi del possibile ritorno di Pogba? E' chiaro che poi la Juventus dovrà cercare di limare le richieste di ingaggio del calciatore perché ancora c'è una certa distanza. Il giocatore non si discute. E' chiaro che se viene con gli stimoli a detta sua importanti è un giocatore che può fare decisamente comodo la Juventus. Credo che le alternative siano Milinko Vissavic o lui come ruolo di Mezzala. E per quanto riguarda Di Maria vale lo stesso discorso fatto per Pogba oppure magari l'età potrebbe pesare di più? Su Di Maria io sono un po' così. Non mi entusiasma pur riconoscendo il valore del giocatore. Però è un po' di anni che non ha una continuità. A quel punto lì mi tengo di bala se devo fare una scelta di un giocatore non dico simile ma quasi. Quindi andrei su altri prospetti secondo me. Ecco per quanto riguarda invece la corsia sinistra. Comunque poi è un giocatore che può essere utilizzato anche in altre zone del campo. Si parla molto di Perisic che potrebbe lasciare l'Inter. Potrebbe essere questo un grande rinforzo per quello che ha fatto vedere quest'anno nell'Inter per la crescita che ha avuto anche per la continuità che ha dimostrato. Ma io nel calcio di adesso diffido molto dai giocatori che fanno la stagione eclatante in scadenza di contratto. Perché poi danno tanto e poi alla stagione quando poi vanno a firmare contratti di due o tre anni si siedono. Quindi credo che poi nelle corsie esterne ci voglia gente fresca, gente giovane che abbia voglia di correre, di sacrificarsi e di arrivare soprattutto. Quindi in un'intelaiatura molto esperta da come dicono ai Juventus io metto qualche giocatore giovane che abbia già fatto qualche due o tre campionati io ce lo metterò dentro. Quindi su Perisic è un ottimo giocatore ma quest'anno ha veramente fatto cose eclatanti quindi ho qualche dubbio. Ha fatto il massimo secondo te quest'anno Perisic? Secondo me sì. Tornando all'attualità, che cosa ti aspetta dalla Juventus nell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina? È sempre una partita particolare, si giocherà al Franchi con la Fiorentina che ha ancora delle ottime possibilità per entrare in Europa la Juventus ormai per il campionato non ha più nulla da chiedere. Sì, però c'è sempre una maglia da onorare, il campionato da onorare quindi brutte figure non ne vuole far nessuno e quindi credo che la partita sia, vista la rivalità degli anni sia forse un po' pepata e quindi credo che non sarà facile per la Fiorentina battere una Juventus perché penso che sia l'ultima gara dell'anno con qualcosa sopra quindi credo che alla fine della fiera potrebbe beneficiarne l'Atalanta in questo finale e di agguantare l'Europa all'ultimo momento. La Lazio l'ha già agguantata matematicamente l'Europa è stato un campionato un po' più difficile del previsto per la squadra di Sarri però alla fine probabilmente si trova nella posizione che merita era difficile pensare che potesse agguantare il quarto posto. Ah sì, ha fatto un buon campionato è chiaro che il calo dell'Atalanta è stato emblematico quindi diciamo che l'Atalanta ha perso l'Europa in una parte del campionato dove tra mille situazioni ha avuto dei problemi è chiaro che ne ha beneficiato la Lazio che è stata molto più continua la Roma che è un'ottima squadra però va a giocarsi una finale e quindi alla fine l'ultima partita nell'anticipo con il Torino non sarà facile il Torino non regala niente a nessuno quindi sarà ancora aperto il discorso per l'Europa. Mentre per quanto riguarda la salvezza vedi un Cagliari quasi spacciato a questo punto? Ma credo che visto l'entusiasmo della Salernitana credo che non si lascia sfuggire l'occasione di vincere la partita credo che le motivazioni siano molto ma molto forti L'Udinese andrà sicuramente a onorare la gara però ripeto le motivazioni sono troppo forti quindi credo che la vittoria non sfuggirà alla Salernitana mi dispiace per il Cagliari perché è una squadra molto simpatica dell'Isola che ha una buona ha una buona intelaiatura di giocatori ma quest'anno credo che abbiano sbagliato qualcosina sarà dura sarà dura Insomma grosse responsabilità sembra avere la società per le mosse fatte durante questa stagione dagli allenatori anche agli acquisti e anche probabilmente insomma a certe posizioni che non sono state assolutamente condivisibili È chiaro che quando si retrocede la colpa è un po' di tutti credo che forse l'unica l'unica non colpa si può dare al pubblico della Sardegna che sono attaccati alla squadra il resto penso che tra società tecnici passati e giocatori credo da suddividere la colpa dispiace perché il valore dei giocatori del Cagliari non è sicuramente da retrocessione Anche il Genoa torna in Serie B era difficile tra le altre squadre poter pensare che scendesse tra i cadetti però anche in questo caso la società ha le sue responsabilità Ma è un po' di anni che il Genoa rischiava la Serie B e quindi a forza di dai e dai ha scherzato col fuoco e quindi prima o poi poi c'è andata dentro quest'anno con l'ennesimo cambiamento di giocatori situazioni particolari diciamo che non dico che se la sia meritata ma ha fatto di tutto Massimo grazie mille come sempre per il tuo contributo Grazie a te buona giornata a tutti Adesso voltiamo pagina ed occupiamoci di quello che è successo ieri a Firenze dove è stata celebrata la Fiorentina dell'81-82 quella che arrivò dal secondo posto alle spalle della Juventus distanziata di un solo punto e ci furono tante polemiche quel 16 maggio dell'82 a Firenze per la vittoria per 1-0 della Juventus sul Catanzaro con un calcio di rigore trasformato da Bredi ma anche e soprattutto per lo 0-0 della Fiorentina contro il Cagliari in quel caso Ai Viola fu annullato un gol di Graziani per un presunto fallo su Corti il portiere dei Rosso-Blu a questo proposito abbiamo sentito tra gli altri Daniel Bertoni campione del mondo nel 78 con l'Argentina e protagonista di quella Fiorentina del 1981-82 sentiamolo ai nostri microfoni Che serata è stata quella di stasera? Molto bella molto emozionante ricordare questo campionato che abbiamo perso non volevano un esparicio perché c'era il mondiale allora le hanno dato un rigore che non c'era noi ci hanno allungato una rete però loro hanno fatto una partida molto intelligente e speciale quando è venuto qua non ci lasciavano giocare che era lo che cercavano loro il 0-0 loro hanno una squadra di esperienza dopo hanno vinto il mondiale E invece la Fiorentina di oggi che ha perso contro la Samp l'hai seguita qui dal teatro? Sì, l'hai visto senza parola Difficile commentare una Fiorentina che non è entrata in campo? No, no io non voglio parlare perché possono pensare o credere che io parlo io ho visto la partita una squadra senza rumbo non aveva un regista una squadra persa nel campo di gioco contro una squadra che ha lottato tutto l'anno la retrocessione però adesso dobbiamo vincere la Juve con la Juve la possiamo fare o fiducia nell'allenatore nella squadra e in quella Fiorentina a centro campo giocava con il numero 8 Eraldo Pecci che aveva già conquistato lo scudetto con il Torino e ci aveva riprovato sfiorandolo con la Fiorentina sentiamo come ricorda quel campionato 81-82 Eraldo Pecci che si sofferma anche sull'attualità Eraldo la serata di stasera che cosa ti ha lasciato? Ah niente fa sempre piacere rivedere della gente con cui hai passato un bel periodo della tua vita infatti quella squadra aveva una crimica particolare quando ci si rivede è sempre bello lo facciamo troppo di rado Comunque ecco sono passati 40 anni però la delusione c'è sempre? Non lo so io per me no perché quando tu arrivi secondo e hai fatto tutto quello che puoi fare io non credo che vincere sia l'unica cosa che conta quando tu non hai rimpianti nel senso che hai fatto tutto quello che potevi fare vince uno solo se io se primo arriva a Maradona io secondo io sono contento non mi dispiace La Fiorentina di stasera invece probabilmente non ha fatto tutto quello che poteva Guarda ti devo dire che sono stato a parlare con questi ragazzi che non vedevo dare vita la partita non l'ho vista non l'ho vista ho visto da distante qualche gol ma se ti devo dare un giudizio sul contenuto della partita sarei presuntuoso non l'ho vista E complessivamente sulla stagione fino a questo momento della Fiorentina? Una gran bella stagione un salto di qualità adesso si è costruito una buona base il difficile arriva adesso che devi crescere dopo una buona stagione di entusiasmo così come ha fatto il Toro in un certo senso il Torino dopo diversi anni di lottare per non retrocedere ha costruito una base e si deve migliorare per cui il difficile hanno fatto un buon lavoro sia Julic che italiano grazie hai visto che sono un po' rincoglionito anche se l'allenatore non fa mai gol no non lo fa mai un gol però loro hanno creato un ambiente tu vedi Mourinho a Roma c'è un ambiente ogni allenatore ha delle caratteristiche certo che non fa mai gol ma portare entusiasmo in questi casi invertire un po' la rotta può dipendere anche un po' dall'allenatore per cui direi che Giuliano che è italiano ha lavorato molto bene vediamo l'anno prossimo invece per quanto riguarda la lotta allo Scudetto nel calcio non c'è mai niente di scontato però il Milan a questo punto vede il traguardo sì gli basta anche un pari e credo che sia stata una bella storia questa del Milan a mio avviso se c'è una squadra che lo merita più di tutti il Milan però si può perdere anche a Sassuolo non credo ma si può perdere anche a Sassuolo non credo ripeto ai nostri microfoni è poi intervenuto nella serata di ieri anche Matteo Marani che ha fatto il punto della situazione anche sulla Fiorentina di oggi in vista della partita con la Juventus e in vista anche di un'Europa che la Fiorentina potrebbe ancora raggiungere la serata di stasera non per ricordare uno Scudetto vinto ma per un secondo posto e questa è anche la particolarità sì sicuramente mi sembra che l'affetto dei tifosi ovviamente non sia assolutamente in discussione enorme sono stati oggi veramente ricoperti d'affetto questi giocatori riflettevo anche di un calcio che era comunque diverso c'era un calcio sicuramente un pochino più umano un pochino più vicino alle persone un pochino più semplice in qualche senso vedevo anche nelle battute fra i giocatori fra di loro quindi dimostrazione che era un calcio qualcuno potrebbe dire più romantico secondo me era un calcio un pochino più umano ecco quindi c'era un certo tipo di rapporti oggi il racconto era molto bello lo spogliatoio era davvero unito da quei racconti che si sono ascoltati questa sera oltretutto insomma anche tante battute a distanza di tanto tempo che raccontano anche di un grande entusiasmo che ancora si respira ma sì soprattutto credo di un clima molto di amicizia e di divertimento fra di loro probabilmente si divertivano nell'82 come si sono divertiti stasera perché sentivano una serie di battute di ricordi con uno straordinario Raldo Pecci su tutti insomma con i suoi aneddoti alcune veramente bellissime battute straordinarie e sì ripeto il concetto cioè persone molto semplici molto normali un pochino più vicine al vivere comune forse perché all'epoca anche diciamo dal punto di vista dei guadagni erano un po' più bassi di oggi probabilmente le abitudini erano un pochino era meno esclusivo il calcio ed era un po' più largo un po' più inclusivo ecco questa serata queste due ore che sono state trascorse qui al Teatro Puccini hanno fatto tornare un po' il sorriso ai tifosi della Fiorentina che stasera hanno dovuto mandargi un boccone amaro vista la sconfitta pesante contro la Rosam sì l'ho detto prima che mi è stato chiesto non la commento perché la partita l'ho vista veramente male di corso ero in viaggio stavo arrivando da Roma quindi non sono riuscito a vederla con la giusta concentrazione che serve per parlare delle partite non mi piace parlare ovviamente solo sui risultati dal punto di vista Fiorentina dispiace questa caduta perché anche alla luce quello che era successo nel weekend probabilmente la Samp poteva avere qualche motivazione in meno invece forse questa è la lappa più liberata e quindi le ha permesso di giocare poi una partita più libera penso che la Fiorentina debba concretizzare quest'annata perché è un'annata molto bella è un'annata che deve chiudersi deve registrarsi deve andare in archivio credo con un risultato di Europa perché per quello che è stato fatto il lavoro lo merita io sono un sostenitore di chi lavora bene e al di là della sconfitta di oggi è indubbio che il lavoro che ha fatto italiano ovviamente anche con il resto della società ma soprattutto italiano perché è stato lui elemento nuovo dell'annata sia un lavoro che merita anche di avere come dire il suggello finale tornando ai protagonisti della Fiorentina 81-82 andiamo ad ascoltare adesso anche la voce di Paolo Monelli ex attaccante dei Viola Paolo Monelli la serata di stasera che cosa ti ha suscitato? ha suscitato dei ricordi che sono indelebili nel tempo che rimarranno sempre purtroppo come abbiamo già detto l'epilogo è stato quello che è stato però è stata un'annata incredibile anche perché per me era il primo anno avevo solo 18 anni il primo anno di Serie A giocare con grandi campioni è stato molto molto positivo ho imparato tanto anche se purtroppo dopo pochi giorni di ritiro mi sono fatto male sono stato fuori tre mesi però credo che mi abbia insegnato molto quella annata lì questo 16 maggio non porta molto bene la Fiorentina anche oggi una sconfitta grave per Viola contro la Samp sì l'abbiamo guardata mi sembra che non si era entrata in campo per niente oggi le motivazioni dovevano essere importanti perché si poteva raggiungere una posizione europea la Samp non aveva niente da perdere perché ormai aveva raggiunto tranquillamente non tranquillamente ma la salvezza per cui è una battuta d'arresto molto molto grave l'ultima partita sarà contro la Juve e sarà ancora una partita molto difficile e molto bravamente potrebbe anche non bastare la vittoria comunque è una partita che si prepara da sola oltre al fatto che la Fiorentina deve riscattarsi ma quello sì quando incontri la Juve credo che questa grande rivalità sia riferita appunto a 40 anni fa quando c'è stato quel campionato lì credo che un po' tutto questo tra parentesi rivalità e odio verso i colori bianconeri credo che dipenda molto dall'esito di quel campionato famoso bene siamo così arrivati alla conclusione di questa ricca edizione del TMV News l'appuntamento è rimandato domani non mancate grazie per averci seguito buon proseguimento di serata grazie a tutti